Claretta, proprio voi, Claretta, perché continuate a chiamarmi Mondo e non Sigismondo? Perché, perché? Perché non poffo! Sigismondo alla F? Ma ci deve, ci deve pure essere un modo per togliere questo difetto. Fatemi pensare. Ecco, ho trovato. Io, Sigismondo Cogoli, detto anche il bel Sigismondo, potrò darvi delle lezioni di pronuncia. Volete? Bene, fate pensare, ripetete con me. Non mi siete indifferente. Non mi siete indifferente. Forse, forse è meglio cambiare sempre. Vi voglio bene. Vi voglio... no, 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 no. È così facile! E poi, non c'è nessuna S. Vi voglio bene! Bravissima, mi piacete! Oh fine, mi piacete moltissimi,assimissimi.. Calma, 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 credestra. Eppure non è sempre stato così con le donne. Figuratevi che un giorno... Una principessa mi ha abitato nel suo patato castello qui. E fu di marzo che mi colpì, e ella disse non fu mai baciata da un uomo, e fu il che fu. Un idilio fiorì, unicato e gentil, ma l'amore spoggiò da qui. Poi quando venne il maggior fuggiò la molle di languor, vivevano di carezze, di palpite e di ebrezze. La luce non ci interessano, e hanno il suo bel tesoro, mi resta perché mi dico no, perché un po' sto meglio un po'. Oh, se quel senso non avessi, se io potessi per me impariare, o mi voglio di un prof e fu, che mi tolga lo diù fuori. Oh, se io potessi bruciare, per me la F. E non mi è di provare. Quel dei magi, si sa, è un rimedio che va, può guarire qualunque mal. Ma voi farà impossibile, e dico incredibile, se molti mi han tentata, nessun mi ha mai baciata. Io non mi è di provare. Sì, Gis, ma io ho pronunziato l'aria. Ma, ma, ma sono stata bravissima!